Oggi sarà veramente difficile per me raccontarti la fragranza sarà molto difficile spiegarla per me sarà molto difficile è una fragranza molto retro, molto antica e in pochi penso che la conoscano però è... può piacere, può intrigare come non può piacere e lo so, ti ho detto tutto, non ti ho detto niente dai, ci vediamo subito dopo la sigla sigla! Ben ritrovato sul mio canale, come va, come non va? Allora, come dicevo poc'anzi, oggi sarà un po' difficile per me raccontarti la fragranza la piramidolfattia è facile, basta che leggi sulla confezione te la impari, la senti, la percepisci, la vivi e la racconti ma quando al mezzo c'è qualcosa di, tra virgolette, storico, un po' scuro, un po' cupo, tra virgolette comincia già entra nell'atmosfera della fragranza che c'è anche in questo sapone di Barry Sternman la vanille, la vanille, la vanille, la vanille, spero di dirlo bene e quindi già mi sono bruciato la tappa di dirti no la sospanso, la sospanso, che sapone, ho scritto nei titoli, è facile capirlo qual è aggiorniamo il calendario fammi vedere che giorno è 16, 16, 16, ma non mi ricordo più come è anche quando comincio a invecchiare quindi perdo un po' la memoria allora, andiamo a vedere subito, svegliamo subito l'arcano eccolo qua, oggi ho una composizione un po' particolare la vanille di Barry Sternman formulazione come quella del Waves che ho fatto dell'altra volta ma abbiamo il balsamo, anzi, ho il balsamo che devo dire la verità, l'ho utilizzato per idratare un po' il viso nei giorni scorsi la persistenza della profumazione è molto buona per essere un balsamo non dico esagerata, molto buona d'altronde non è un balsamo dopo barba parfum che rimane per tanto tempo quindi va più che bene, il lavoro solo l'ha fatto molto bene e Antique Brass della Pure Shaving speriamo che ha delle camere questa mi duri per tutta la registrazione e vado a riprovare le Blue Beers, l'uccello blu l'uccello blu, Platinum, Chromium, Ceramic, Platinum, Tustem una barretta di plutonio in poca parola sono prodotti in Turchia, andiamo a vedere come si comportano perché ho scelto l'Antique Brass? perché ho un gap un po' più alto rispetto ai comuni pettini chiusi e poi prendo il Big Bruce perché? perché andando a leggere proprio sul sito del produttore quindi Barry Stelman dicono io ancora non ho aperto il sapone come puoi ben vedere è ancora sigillato sì, ho voluto attendere insieme a te il momento perché se non è facile, ti faccio una bella pappardella tu magari immagino ah che buono, che bello, guarda preferisco farlo insieme a te insomma allora, Barry Stelman dice di non utilizzare consiglio di non utilizzare i pennelli in sedola o in pelo animale perché il sapone potrebbe macchiare il pennello e consiglio non sintetico io a sto punto vado a sacrificare il Big Bruce che a me piace tantissimo è un pre-soft molto morbido e voglio vedere l'effetto colorante e ho anche la camicia bianca quindi voglio vedere che succede non è che perché ho detto questa lo escludo a priori attenzione in commercio non ho vissi tanti dei saponi che macchiavano i pennelli però poi a lungo andare quel colore se n'è andato perché magari si è utilizzato un colorante troppo acceso, troppo forte ed è conseguenza normale te vedi il pennello magari un 48-98 che diventa un colore strano, stravagante te fa un po' così e io adesso non so di che colore stiamo parlando non lo so allora andiamo intanto a leggere la cosa più importante visto che ho aperto il video con il discorso fragranza qui abbiamo aspetta facciamo così togliamo il sigillo così a me non c'è riflesso in camera allora eccolo qua lavanda vaniglia mousse de sax eccetera è la mousse de sax che per me è difficile raccontarti al tempo ma che è? apici allora io ho già sentito un altro sapone a base di mousse de sax che cos'è sta mousse de sax? è una fragranza inventata inizio degli anni inizio del novecento è una profumazione scura, nera al di là del colore che sicuramente sarà stato fatto apposta il colore perché la base di questo tra virgolette ingrediente che si usa in profumeria se ho capito bene perché ho cercato di leggere un po' la storia ma ci stanno pochissime informazioni sulla mousse de sax devo dire che questa concentrazione di aromi dove ci trovi anche la liquidizia fatta tramite l'anice addirittura la vaniglia ha delle note di cuoio, di muschio, di animale la sensazione che sto sentendo io in questo momento è mi piace o non mi piace? sto lì non riesco a capirla bene però se chiudo gli occhi per annusare il sapone io di solito anche per altre cose chiudo gli occhi per annusare a metà del cuoio, del cuoio stagionato, del cuoio un po' antico un cuoio maschile, virile no con quella sfaccettatura quasi talcata, cipriata che si usa spesso nelle profumazioni di pelle tipo russa una cosa quasi cipriata questa è molto più intensa più maschia, più forte più sella de cavallo per fatte capire togliendo l'odore del cavallo la sella del cavallo c'è anche una freschezza di borgeranio per fatte capire quindi non è proprio chiusa, ermetica in se stessa cuoio della coramella, cuoio d'armatura d'armatura tipo, non lo so perché faccio riferimento con un altro sapone che ho che te devo far poi vedere parlando ancora della mousse de sax se conosci la fragranza me la sai spiegare spiegamela perché io ho girato tutte le parti ci ho capito qualche cosina questo che ti ho raccontato più di tanto però mi è rimasto un po' difficile comprendere bene perché sta mousse de sax veniva utilizzata insieme ad altre fragranze come questa quindi c'è abbiamo detto la lavanda non mi sto pure a dimenticare la vaniglia che la senti e appunto anche il cedro però in tutto ciò proprio la mousse de sax è quella che copre un po' il resto è un cuoioso piacevole è un cuoioso antico come loro hanno definito hanno raccontato che hanno avuto accesso a un po' di fragranza della mousse de sax e l'hanno quasi riprodotta dopo vari tentativi ma la cosa che mi ha fatto pensare cosa che a me invece faceva pensare è che la lavanda poteva essere molto più predominante è una sorta di giglio che mi ha fatto pensare prima a Firenze poi ho pensato alla Francia dico la verità e quindi di conseguenza mi ha fatto pensare un qualcosa un odore che veniva utilizzato in ambienti un po' più particolari un po' più prestigiosi diciamo così è molto particolare è molto anche terrosa se l'annusi bene con tranquillità perché è facile sta panzapone ah sa di quello ah sa di quel profumo si ma devi cercare le note ma non è profumeria quella che faccio io però secondo il mio punto di vista dopo questo preambolo di 8 minuti credo fortemente ovviamente che la profumeria sia molto affina alla rasatura tradizionale però più l'annuso più mi piace non è un profumo che può piacere a tutti non è un profumo universale anche se la mousse de sax se la dico bene avuto un gran successo quando è uscita un grandissimo successo quindi possiamo immaginare che l'evoluzione anche i gusti nel corso del secolo il diciannovesimo inizio del ventesimo sia cambiati totalmente cambia lo stile di vita cambiano tante cose quindi cambia anche il discorso della profumeria a me fa pensare a una casa non dico nobiliare ma una casa comunque di un benestante dove il cuoio la faceva da padrona dove c'era anche il legno che la faceva da padrona e quest'odore di questa casa trafitta dalla luce pomeridiana di un inverno che crea quel contesto antico quasi immobile come vede l'immagine dell'urbex per farti capire ne vedo tanti dei video di urbex come quello del carissimo Matteo Montesi che mi ha salutato lo saluto pure io però in chiave poetica piacevole molto piacevole ma adesso voglio sentire in viso voglio vedere quello che succede sulla camicia cercherò di evitare sporcamme quindi iniziamo a fare tutto il lavoro ti ho fatto superamente preambolo non lo so un sermone proprio magari che non serviva allora pure shaving eccolo qui bello mi piace tanto massiccio un bel rasoio l'acqua ancora non è arrivata a temperatura purtroppo devo attendere un attimo ok inizia apposta guarda veramente difficile quando tutti pensano che sia facile cercare di cacca miseria ecco ma io che devo fare devo buttare via questa perché sono tutte bagnate mi toccherà adesso una dopo una asciugarla mannaggia la miseria zitto 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 no non è penetrata l'acqua che botta di 23 come dicevo una volta 23 oh ma ha salvato vabbè fammi una cosa visto che ho preso l'acqua via continua più all'acqua allora io intanto comunque le spacchetto per sicurezza anche che sono rimaste mesi a poche quindi sono asciutte completamente asciutte c'è una botta di 23 oggi sta buono vediamo che succede scusa questo è il bello delle riprese dirette senza troppi tagli i tagli li faccio di inquadratura no di quello che mi succede allora l'uccello blu eccolo qua ah è styless ma come sono rivestite ma mi fate capire qualcosa se sono rivestite non sono rivestite ogni quando dite si poi dite no poi fate come me pare che è l'acciaio di base che è styless inossidabile inossidabile eh vabbè quante cose tocca spiegare c'è gente che mi dice vabbè ma tu tanto tra un po' esaurirai gli argomenti no io sono sicuro che non esaurirò mai gli argomenti me esaurisco prima io perché giorno dopo giorno tanti si appassionano cioè sto canale sta andando no bene benissimo per quanto riguarda i miei numeri diciamo la mia nicchia io sono veramente molto contento non te nascondo che sto lavorando anche su facebook non so com'è pure là sta andando bene su tiktok un po' di meno sta andando bene perché boh stranamente ci stanno dei periodi dove te spingono a palla e periodi dove proprio c'è nessuno te guardi intorno ma se pubblico ugualmente senza problemi allora andiamo a fare la creazione principale che è quella di bagnare Big Bruce ricordo che il sintetico non ha bisogno di attivazione o di pre-ammolli e andiamo a vedere quello che succede allora ho messo un po' di acquetta il sapone comunque è una pasta abbastanza dura come vedi già tira fuori il colore insomma è cambiato sembra ti ricordi i micro machine che metti nell'acqua calda e cambiavano colore uno spettacolo vedi guarda già cambiato colore guarda guarda un po' che colore esce vedi giustamente se consigliano io mi attengo al consiglio che loro danno quindi aspetta mi faccio la leccata di mucca e andiamo a bagnare prima il viso e poi stendiamo il sapone ok vedo spero di non macchiare la camicia ma io vi provo che faccio insieme a te quindi mi dai coraggio sto marrone sto colore antico capisci non so se mi riesco a spiegare con le mie parole però è un po' quello mi ha cambiato colore mi ha dato è come se avessi svecchiato con del coppale una trave antica che ormai era diventata da un colore strano chiaro sbiadito invece così l'ho riacceso eh capito no? anche perché la mousse de sax dall'immagine che ho visto era un colore molto scuro molto scuro mi ha messo a mettere il mogano aspetta l'acqua però non è proprio a temperatura non è succede lo so fa strano vede sto colore in faccia e ma tra di noi se capivo non sta a far pensare al kinder bueno senti scusami un attimo io proprio devo prendere un po' di acqua calda perché questa non è calda è leggermente tiepida allora come ho notato i bari san man vogliono un po' più di acqua rispetto agli altri io prelevo un altro po' perché vedo che mi sa che non ho chiappato niente è bella compatta aspetta aspetta devo capire cosa perché qua si leva c'è non riesco a capire sta cosa e poi c'è qua sopra è una volta che mi succede ma vedo che è più tanto non va io posso pignolo no? scusami è davvero anche perché è bella idratata però non molto molto compatta però sai io amo il secondo che mi fa un po' di volume non eccessivo però che me lo fa perché è idratata e idratata cioè lucida sembra che c'è una maschera di bellezza in faccia sarò io che non riesco a montarla però vedi cioè non è che non c'è niente forse è questo marrone che sfina vabbè mi fermo perché sennò mi sta venendo la voglia di buono che tu manco da immagini mi fa rimanere 4 o 5 una pressa un altro allora vedi è idratata però non mi diventa voluminosa vabbè uguale l'importante è che abbia coperto certo questo per me è un punto in meno però vabbè allora il profumo è buono rimane intenso in viso molto piacevole la scorrevolezza è buona perché guarda non ti sto nascondendo che è lucida quindi per me sinonimo di idratazione è la cosa più importante però profumo elegante molto elegante buona scorrevolezza perché la base è quella come il waves è la stessa ti dico che mi sta piacendo cioè mi sta piacendo la fragranza annacchiamo un po' di più il pennello vediamo che è via fuori no più di tanto non mi prende l'acqua vedi non devo aggiungere rimane un po' così rimane per me questa poi è una cosa che sinceramente dà un po' di fastidio perché non riesco a godermi la saponata sicuramente l'errore sarà il mio che ho prelevato poco perché l'artrottere waves comunque ha lavorato ha coperto ha fatto comunque il suo spessore di protezione rimango un po' così ripeto non è accia non è accia assolutamente però non crea quell'effetto che noi amiamo della saponata abbastanza evidente perché se vede che è tratato amico mio se vede il riflesso che fa se aumenti un po' l'acqua ecco lì che mamma dai ecco l'acqua ecco l'acqua Grazie a tutti. 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 Non sono andato poi in tanta profondità perché la lametta mi sento bruciare, capisci qual è il... Perché se io mi rado con una federa anche con mezzo millimetro di sapone non mi succede, con certe lamette mi succede? è perché dipende anche da le proprietà delle lamette. Allora, tiriamo le somme. do 20 minuti di video... do 20 minuti di video... Devo dire che il sapone è piacevole, non è un mostro di montaggio, almeno quello che ho notato io e ripeto, mi prendo anche la responsabilità di aver fatto un montaggio magari pessimo. Qui contiene un montaggio pessimo che magari non ha dato giustizia al sapone, quindi se sei intenzionato a comprarti il set, che ricordo c'è anche l'after shave in base alcolica, quindi se ti piacciono gli alcolici vai tranquillo. La promozione è molto piacevole, peccata appunto da questa situazione di sfavore, tra la lametta che mi ha graffiato sostanzialmente e un sapone più tanto non montava, ma tratteneva molto l'acqua, che è il principio cardine appunto della suddola tradizionale. La fragranza è molto piacevole, molto elegante, è da comprendere bene, non perché è una fragranza che fa schifo, anche il gatto scapperebbe via, ma è una fragranza che ha una certa struttura, una certa complessità di olfatto, molto molto particolare. Per quanto riguarda il balsamo ottimo, te lo straconsiglio, sia per la profumazione, sia per l'effetto che ti dà sul viso, te lo rende molto morbido, è una fortuna che non ho utilizzato l'alcolico perché sennò qua strillavo come Kevin. Quindi, sì, l'unico neo, ma mi prendo riserva, in questo senso, è il crescere della saponata, il volume della saponata è molto basso e l'acqua più di tanto non gliela devi dare perché sennò se ne va via. Mi riservo di riutilizzarlo, quindi sappilo, prossimamente utilizzerò un altro, la Mousse de Saxe, e vediamo un po' le differenze. E la mette per me queste anche no, no, grazie, e se sei arrivato fino a qua ti ringrazio per aver guardato il video, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate, mi raccomando acquisti sempre razionali. E, a proposito, a breve, a breve uscirà un sapone da barba che ci avrà un profumo della miseria, quindi occhio rimane aggiornato. E poi uscirà pure un altro, un altro molto carino, molto simpatico, uscirà, forse uscirà, vabbè, non ho detto niente. E buoni acquisti, buone sbarbate, hai capito? Lo sapevi? E mo lo sai, uomino bianco. O magari arriva una sponsorizzazione, perché no? Lo fanno tutti, non sono io. Ciao. Ciao.